Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora come da titolo torna così in auge la pallavolista, la più forte pallavolista direi di sempre che ha avuto l'Italia, Paola Egonu, che vi ricordate durante quest'anno ha suscitato spesso molte polemiche anche per la sua partecipazione a San Remo per le sue dichiarazioni a proposito del razzismo. Sappiamo che poi tempo fa lei ha fatto coming out, ha avuto diverse fidanzate che io conosco, che ho conosciuto perché provengo dal mondo della pallavolo. Ecco per chi magari mi conosce da poco su questo canale io per molti anni ho fatto il dirigente ad alto livello della pallavolo, sono stato direttore generale a Milano nei primi anni 2000, sono stato per quasi dieci anni il team manager della squadra di Monza di Serie A. Quindi insomma conosco abbastanza bene l'ambiente, adesso da un po' di anni ne sono fuori dal 2020 però voglio dire lo conosco perfettamente. Ora esce questa storia pubblicata sui loro social, su Instagram, di questa storia d'amore tra Paola Egonu e Leonardo Puliti. Leonardo Puliti è un pallavolista a sua volta che attualmente gioca a Garlasco ma che io conosco molto molto bene perché quando era ragazzino negli anni 2010-2011 ha giocato un paio di stagioni proprio nel vero volley in Serie A2. Un ragazzo molto simpatico, brillante, di buone prospettive, non ha fatto poi una grandissima carriera così bazzicato un po' fra la Serie A2 qualche volta riserva in Serie A1, ma non è questo che ci interessa. Quello che mi ha lasciato così sgomento è il fatto che io ho sempre pensato che chi in questo caso fa coming out e dichiara di essere omosessuale poi ha rapporti esclusivamente con il proprio sesso. In questo caso probabilmente mi sono perso un pezzo o meglio viene fuori oggi che allora Paolo Egonu non è proprio omosessuale ma Paolo Egonu è bisessuale che è un'altra cosa che indifferentemente va con le donne ma può anche innamorarsi degli uomini. Per carità non sto discutendo su questo, attenzione io ho sempre detto una cosa, quello che fa uno nella propria vita privata non mi interessa, l'importante sono i comportamenti, mi aveva dato fastidio un certo tipo di comportamento di Paola Egonu riferita appunto al razzismo. Per quello che ho saputo da amici che ho ancora nel mondo della pallavola, insomma questa storia anche con l'allenatore Mazzanti non sembra che proprio lei sia esente da colpe nel senso che se uno approfitta del suo grande livello pallavolistico e ripeto lei è sicuramente una delle migliori, sono la miglior pallavolista che l'Italia abbia mai avuto e la mette un po' quasi sul ricatto nel confronti del proprio allenatore, non è la cosa più bella del mondo. Però tornando a noi, mi sembra ormai davvero di essere un uomo del passato perché ai miei tempi mai si sarebbe pensato ad una cosa del genere e poi magari anche a renderla pubblica. Forse è arrivato anche il momento di accettare questo cambiamento del mondo, non lo so, io non ci ho ancora riflettuto perché non mi era capitato a questi livelli, a livello di personaggi così conosciuto, non dico dei dietro front perché non lo sono probabilmente, perché questa è sempre probabilmente stata l'indole ed è l'indole di Paola Egon, cioè che indifferentemente può avere relazioni con una donna e con un uomo e quando si parla di sesso fluido si intende sicuramente anche questo, dove ci porterà tutto ciò non lo sappiamo, è un male, non voglio esprimermi, capite? Perché è difficile esprimersi su una cosa del genere, l'unico sentimento che vi voglio trasmettere è che così la cosa mi ha lasciato abbastanza scioccato, scioccato nel senso non esagerato, ecco, però non me l'aspettavo, ecco non mi sarei mai aspettato una notizia del genere. Ecco questa è la notizia, Paola Egon ha un nuovo amore, non è una donna in questo caso come era stato finora o come perlomeno avevamo saputo, ma questa volta è un uomo, è un pallavolista, è Leonardo Puliti che io ho conosciuto molto bene per averlo avuto nella mia squadra quando ero dirigente del Vero Volley di Monza. Ecco sono curioso di, spesso in questi casi mi interessa poi sapere il vostro parere, per carità uno può essere indifferente, uno può condividere, uno può rimanere perplesso, io ripeto non sto dando assolutamente un giudizio, ci mancherebbe altro, è semplicemente così sono rimasto un po' spiazzato, ecco questo consentitemolo, una cosa del genere mi spiazza e mi fa fare delle riflessioni di dove noi come individui, come esseri umani stiamo andando. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.